dove andiamo oggi? ho fatto anch'io la mia parte eh te lo dico ah si? si 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 beh io non ho fatto la mia bravo 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 si stanno allora questo video inizierà con me che faccio quella qui buongiorno lei è un coraggioso è comunque manica corta così lei c'ha il fisico vuole entrare in macchina? tutto a posto e niente in ordine vabbè dai c'è posto ho fatto tutto no dai beh allora l'inizio di un nuovo capitolo eh speriamo di sì speriamo sia un bel capitolo ecco le indicazioni per stadio carlo castellani ormai riconosco tutti eh stiamo dando su testa com'è te? bene 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 buongiorno ah io mi giro il fuoco ma non è vero, è vero Filippo bene però a livello di spi bene bene si c'è qualità a livello di spi ok bellissima ancora una me l'ha insegnato me l'ha insegnato che bel ragazzo facciamone una un po' più lunghina come la seconda è immediata bene 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 dentro c'è un po' di lattice dentro così che non è eccessivo la spesa positiva di quel modello lì è morbidissimo guarda sotto guarda si però un po' più si si giusto giusto guarda sotto 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 guard bellissima! porta fuori le altre due paia, ci facciamo due foto mettiamola dove prima o ritorno qua? no 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 ci mettiamo un po' sullo sfalto un po' attorno al campo quindi il campo non lo facciamo mi devo vestire devo portare i completini da gara? esatto ti metti quel completino da gara questa te la cavi completino da gara me lo metto? si si porca madosca questa oltre a rischiare la vita sono balzato anche da telecamera problema che c'è la sicurazione sul fotografico mamma mia mi mettete anche l'effetto mi dovete mettere l'effetto un po' di dolcezza dei capelli se no non ci posso pubblicare cominto a caldo cominto a caldo questa maglia è bellissima bella 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 Oh, bene? Bene, dai. Bene, dai. Questa è la vita di uno sportivo, non la tua, guarda, guarda, pasta, pasta, ogni settimana mi sembrava... Birre. Birre, acqua... Beh, anch'io dai. Back to Verona. Back to Verona. E tu che cazzo riprendi? 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 E tu che cazzo riprendi?